Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Talescout al puntamento settimanale dove io vi andrò a far vedere i talenti sconosciuti della carriera allenatore su FIFA 17 Per iniziare con i due talenti che ho scelto dai vostri commenti, dai vostri consigli nello scorso episodio vi voglio spiegare un po' le regole perché a qualcuno non sono ancora chiare Prima regola, talenti sconosciuti che mi consiglierete voi che andrò a prendere e soprattutto il giocatore principale che andrò a trattare in un episodio sarà sconosciuto quindi non vi aspettate giocatori conosciuti Seconda regola, guardare tutto il video prima di commentare perché me ne accorgo e non vi sceglierò mai se vedo che commentate subito, per esempio lo scorso episodio molti hanno commentato dopo 30 secondi che era uscito il video quindi non li ho scelti perché è una questione anche di rispetto verso il lavoro che c'è dietro il video Terza regola invece è quella che non mi dovete consigliare i giocatori in lista infatti me ne dovete consigliare solo uno, se no se mi consigliate già due giocatori già non va bene perché se no si crea troppa confusione e soprattutto quando vado a prendere il commento escono due giocatori e non è bello da vedere Altra regola invece è quella che dovete vedere negli scorsi episodi perché molti mi stanno consigliando giocatori che ho già portato su tale scout come per esempio Isaac, Alexander Isaac, siamo stati i primi in Italia a portarlo quindi è inutile che me lo consigliate così come Ferdi Cadoglu, altro giocatore che abbiamo scoperto insieme Altra cosa è che mi state consigliando giocatori che ho portato nelle carriere sia con il Portsmouth sia con il Crotone quindi non capisco il perché me li consigliate e vi consiglio di andare a vedere anche le carriere Ma adesso passiamo subito al primo talento, si tratta di Vincent Till che ci è stato consigliato da Official e Kangri Snako sono riuscito a leggerlo Till è una T, alto 1,68 con 17 anni d'età, squadra Mets, nazionalità, Lussemburgo parte con un roll di 64 su FIFA 16 anni d'età perché li ha già copiù nella realtà ma sono 16 anche su FIFA quindi un anno in meno è una cosa positiva allora 925.000 il valore, 76 accelerazioni, 82 giri, 77 veloce a scatto e 91 equilibrio spiccano anche un buonissimo precisione e punizione con 71, dribbling da migliorare così come il controllo palla come possiamo vedere qualcuno di voi me l'ha chiesto, fai vedere anche le mosse abilità il piede debole, ha 2 stelle di piede debole e 3 stelle di mosse abilità all'inizio della terza stagione senza allenamenti di Phantom 68 con 78 accelerazioni, 82 agili da 91 equilibrio 80 veloce a scatto, controllo palla con 72, 77 precisione munizioni, dribbling 73 precisione munizioni 72 passaggio corto, ottimo talento, molto molto equilibrato questo secondo me se lo allenate costantemente già a 18 anni potrebbe arrivare un 72-73 ma adesso passiamo al secondo talento che si tratta di Kekuta Mane che ci sarà consigliato da Ivare Mane è un ES, alto 1 e 75 con 22 anni d'età, squadra Vancouver, nazionalità, Gambia parte con un roll di 70, fa il 2 milioni e 3, ha 96 accelerazioni, 86 agilità, 92 veloce a scatto, 80 equilibrio 75, dribbling 74, potenza tiro lui è un po' più conosciuto, tra i tre talenti che vi mostrerò oggi è un po' più conosciuto, lo conosciamo penso quasi tutti ma ho deciso di sceglierlo perché il ragazzo che me la consiglia non mi ha fatto proprio un'analisi dettagliata su di lui e quindi mi sembrava giusto sceglierlo all'inizio della terza stagione senza allenamenti diventa un 73 quindi non sale di molto, 4.2 il suo valore 98 accelerazioni, 95 veloce a scatto, 86 agilità, 80 equilibrio, 74 resistenza 77 dribbling, 73 controllo palla e 76 potenza tiro inoltre ha 4 stelle skill e se non sbaglio 3 stelle mosse abilità adesso passiamo al talento principale dell'episodio, si tratta di Anastasios Donis Donis è un attaccante, alto 1,78 con 20 anni di età squadra inizia alla prima stagione ma è di proprietà della Juventus nazionalità greca Donis parte con 68 di overall, vale 1.400.000 79 accelerazioni, 78 agilità, 76 veloce a scatto, 77 equilibrio, 75 resistenza, 76 dribbling, 71 controllo palla ma questi sono i pro, gli attributi che spiccano di più nella prima stagione 69 finalizzazioni che per un attaccante va migliorato ma solo 19 anni inoltre come possiamo vedere ha 4 stelle pede debole e 3 stelle mosse abilità all'inizio della terza stagione senza allenamenti diventa un 74 quindi ottima crescita per lui, 4 minuti 8 il suo valore 85 accelerazioni, 83 veloce a scatto, 79 agilità, 72 elevazioni, 80 equilibrio, 76 resistenza 86 dribbling, 77 controllo palla, 74 finalizzazione, 80 passaggi corti e 75 tiri al volo non vi fate ingannare all'86 di dribbling, lo provate non ha un dribbling chissà che si è ottimo ma secondo me un 86 è troppo come pro gli vado a dare la velocità e la finalizzazione velocità perché 85 di accelerazione è ottimo per lui, per un attaccante e la finalizzazione è solo un 74 ma non vi fate ingannare ha un'ottima finalizzazione, io mi ci sono trovato benissimo invece per quanto riguarda il dribbling che non lo metto come contro perché è ottimo il suo dribbling un 86 secondo me è troppo e niente ragazzi questo era un altro episodio di talent scout mi raccomando se il video vi è piaciuto vi lascerò un like, un commento, iscrivervi spero che siano arrivati fino a qua mi raccomando che siano arrivati fino alla fine di questo video facciamo questo piccolo esperimento scrivete l'hashtag talent scout nei commenti dopo che mi avete consigliato il giocatore e niente ragazzi se questo vi è piaciuto vi lascio un like, un commento, iscrivervi come vi ho detto prima, seguitevi anche su instagram trovate il link in descrizione ci vediamo al prossimo video, bella! ciao ciao ciao